Prende forma la pista ciclabile all'interno della riserva naturale del Borsacchio di Roseto. La ditta paltatrice in questi giorni si sta occupando del compattamento e del livellamento del manto ghiaioso. Una soluzione che presenterebbe diverse pecche secondo il responsabile locale di Casa Civica Flaviano De Vincentis. Come vediamo è una semplice distesa di breccia all'interno della riserva senza un minimo di tutela per chi viaggia con la bicicletta e intende arrivare giù a Roseto. Come si vede già ad occhi una distesa di breccia in mezzo a delle sterpaglie, delle canne, delle piante che non sono state messe in ordine. Un tracciato simile a questo si vede nelle strade di campagna. Secondo De Vincentis il materiale utilizzato per creare il manto della pista si sfalderebbe con la pioggia. Inoltre non ci sono le barriere laterali per contenere la pista stessa, utile per creare una sorta di protezione per i bimbi che vanno in bici. Le barriere che possono proteggere le scarpate laterali in legno e quindi si potevano mettere benissimo delle barriere di legno per delimitare la pista. Poi ci sono degli asfalti ecologici, delle resine trasparente che non compromette la visione del paesaggio naturale che deve essere la riserva ma che dà la sicurezza e tranquillità di chi la percorre. In questi giorni poi chi si è avventurato lungo questo percorso nonostante sia ancora un cantiere aperto ha notato molti serpenti a attraversare la pista. Per qualcuno andrebbe fatta una manutenzione dell'esselciato a ridosso della ferrovia ma trattandosi di una riserva naturale tutto deve rimanere immutato. C'è anche la questione della pista che si ricollega col lungomare di Cologna Spiaggia. Qui verranno presto eliminati i parcheggi per ricavarne appunto il percorso ciclabile. Anziché farla passare dietro lo stradone vicino alla ferrovia e quindi Pedea permette di arrivare tranquillamente a collegarsi con questa hanno scelto di togliere l'intera fila di parcheggi per tutto l'intero lungomare creando problemi a chi viene al mare in primo luogo ma soprattutto a chi ha creato problemi. Le persone disabili che non si possono più avvicinare alla spiaggia perché sono costrette a parcheggiare in questi luoghi che adesso ci danno gratuitamente dei privati ma che poi se questi domani non ce lo daranno più dove andremo a parcheggiare? Dove andranno a parcheggiare i turisti, i disabili, lo scarico della merce? Quindi un grandissimo problema. Resta ancora l'incognita su dove far passare la pista in via degli Acquaviva. Se venisse realizzata a ridosso della ferrovia si ridurrebbe la carreggiata e non potrebbe più essere garantito il doppio senso di marcia.